Ciao a tutti ragazzi bentornati su Starlet's Tube, oggi torniamo a parlare di film, recentemente sono riuscita finalmente a recuperare un film che francamente era un po' dubbiosa per quanto riguarda appunto ormai il franchising che secondo me ormai ha dato tutto quello che aveva da dare ma che però devo ammettere mi ha sinceramente intrattenuto e mi ha anche regalato un po' di nostalgia, sto parlando di Terminator Deschino Oscuro che è stato diretto da Tim Miller ed è uscito nel 2019 la saga di Terminator è una saga che mi ha sempre intrattenuto e mi è sempre piaciuta, il primo è un cult ormai si sa, effetti speciali che per l'epoca furono wow poi segno anche diciamo la vera scesa di Schwarzenegger nel mondo dell'action perché per quanto riguarda la recitazione Schwarzenegger diciamo che lascia parecchio a desiderare e quindi diciamo che comunque fu notato e quella fu il suo trampolino di lancio verso proprio il cinema action degli anni 80 barra 90 ecco di cosa per quei pochi che non sanno di cosa parla Terminator, che cos'è Terminator? Terminator appunto è una saga cinematografica nel primo libro questo robot con sembianze umane appunto le sembianze di Schwarzenegger viene mandato indietro nel tempo per uccidere colei che sarà la madre del futuro leader della resistenza umana nella guerra contro le macchine ovvero Sarah Connor, allo stesso tempo anche John Connor che appunto il figlio di Sarah dal futuro ha mandato un soldato ovvero Kyle Reese a proteggere Sarah dal Terminator in tutto questo marasma casini vari si scoprirà poi che Kyle Reese è il padre di John perché appunto Sarah e Kyle copulano, sniacchierano una volta sola perché lui poi nel tentativo di proteggerla muore e da qui appunto poi partono gli eventi del secondo film che è ambientato se non sbaglio dieci anni dopo 12 anni dopo Sarah è rinchiusa in un ospedale psichiatrico e c'è un giovane John Connor a cui viene mandato un... qui appunto i ruoli si invertono se nel primo Schwarzenegger è il Terminator cattivo nel secondo è il Terminator diciamo buono perché il Terminator con le sembianze di Schwarzenegger viene inviato da John del futuro a proteggere John del passato mentre le macchine dal futuro mandano questo Tim Miller che ha le sembianze di Robert Patrick che è un attore che era abbastanza iconico a quei tempi ma poi nella sua carriera ha fatto qualche episodio di X-Files poi qualche altra così cosa sporadica ma non ha raggiunto diciamo la fama come Schwarzenegger ecco tanto per dire ed è un androide che è capace appunto di... è fatto di metallo liquido praticamente quindi può passare attraverso le sbarre, può cambiare forma, può assumere appunto le sembianze di un'altra persona attraverso il contatto fisico. Io vi sto raccontando tutte queste cose perché poi queste cose si potranno diciamo vedere anche nel film del destino oscuro. Adesso appunto vi sto anche spiegando un momentino poi John e il Terminator liberano Sara insieme riescono a fermare il giorno del giudizio distruggendo appunto i componenti che sarebbero serviti per creare Skynet ecco Skynet è la intelligenza artificiale responsabile appunto della guerra nucleare nel futuro poi c'è stato Terminator Salvation ma di quello non... a Terminator le macchine di Belli scusate ho fatto confusione ma di quello non voglio neanche parlare non voglio neanche parlare perché è stato un orrore un orrore è andato a sputtalare tutto quello che è successo nei film precedenti c'erano a parte Schwarzenegger c'erano degli attori che proprio non centravano una minchia una fava con i personaggi e poi appunto c'è stato Terminator Salvation lì l'unica cosa bella sono state la visione di Christian Bale e di Sam Warnington nello stesso film perché anche lì veramente anche lì abbiamo toccato livelli di porcaggine assurda neanche la bravura e la gnoccaggine di Christian Bale e la bravura e la gnoccaggine di Sam Warnington sono riusciti a salvare quel film e infatti la casa di produzione ha fatto anche bancarota dopo quel film dopo appunto i disastri delle macchine di Belli e di Terminator Salvation sono arrivato Terminator Genesis che per quanto fosse anche quello un po' una tamarrata devo ammettere che rispetto alle macchine di Belli e a Salvation era tutto un'altra cosa Emilia Clarke è stata inspiegabilmente convincente nei panni di una giovane Sarah Connor cazzutissima si è staccata per un po' dal personaggio di Daenerys Targaryen e ha fatto suo il personaggio di Sarah Connor devo ammettere che mi ha convinto ma la cosa più bella di quel film è vedere Schwarzenegger invecchiato con questo visino a 32 denti che faceva ogni tanto mi ha intrattenuto poi Jason Clarke ottima prova come John Connor davvero è stato veramente bravo e anche J. Courtney ha fatto il suo dovere come Kyle Reese anche se lui vabbè come recitazione non è che basti guardare Die Hard un buongiorno per morire lì veramente abbiamo lì J. Courtney ha toccato livelli di recitazione pari al recitatore recita meglio questo tavolo di legno vi dico soltanto questo e anche quello però è stato un flop che per carità mi è dispiaciuto perché il potenziale era buono ma secondo me non l'hanno sfruttato sufficientemente bene così hanno deciso di salvare Baracca e Burattini e fare questo Terminator Destino Oscuro che va a eliminare quegli obrobi diciamo che ci sono state delle macchine di Valley e di Salvation e anche purtroppo di Genesis infatti il film si apre con una giovane Sarah Connor e il John Connor ragazzino che sono in Sud mi pare che siano andati in Messico se non ricordo male e John viene ucciso appunto da un Terminator mandato dal futuro e che è riuscito a trovarli come ci si è riuscito non ci viene spiegato ma giustamente non si poteva volevano fare qualcosa di nuovo e John Connor doveva andare fuori dalle palle peccato anche perché comunque l'attore che ha fatto John Connor ovvero Ida Farlong o Furlong ha avuto poi dei grossi problemi io non so se adesso sta meglio anche perché comunque è andato a fare delle puntate di CSI e poi non lo si è più visto ma ha avuto dei seri problemi di droga e di alcol e giustamente non lo hanno più ingaggiato il che è un peccato perché comunque io adesso poi non so se effettivamente si è ripulito o altro perché non ho seguito la carriera dell'attore queste cose le so perché appunto le ho cercate per fare questo video qui appunto dopo dopo quello che succede a John arriviamo appunto ai giorni nostri ovvero nel 2020 e vediamo appunto questa donna arrivare appunto dal futuro tutta nuda sempre tutte nuda arrivano che sembrerebbe anche lei una macchina ma in realtà è un'umana potenziata e il suo compito è quello di trovare una ragazza ovvero Dani e proteggerla e dal futuro poi arriva anche un altro cyborg che è un modello Rev 9 di nome Gabriel lei appunto si chiama Grace la tipa che poi questa ragazza questa attrice sconosciuta che è altissima ma devo ammettere che è cazzo terri ma è stata brava devo ammettere per quanto riguarda il livello action e questo qui appunto è una palese copia del team 1000 perché anche questo qui si può liquefare creare armi però l'hanno messo nero l'hanno un po' cambiata la cosa però è palesemente un tentativo di copiare il team 1000 c'è questo scontro appunto epico in cui Grace salva Dani dal Rev 9 che ha preso le sembianze del padre questo scontro poi non poteva mancare in mancabile lo scontro in strada chiaramente un rifacimento all'inseguimento di Johnny in moto e il team 1000 con un camion e Schwarzenegger sempre in moto che cerca di salvare Johnny insomma mi è sembrato un po' un omaggio barra scopiazzatura ma questo film diciamo che tende un po' a essere una specie di rivisitazione del secondo film e mentre appunto purtroppo c'è anche il fratello di Dani rimane ucciso nel tentativo di salvare la sorella si sacrifica appunto per farle scappare in quel momento arriva questa cazzutissima Linda Hamilton che porca Eva avrà la sua età ma c'ha ancora un fisico e una prestanza della Madonna naturalmente sbiancata perché ha i cabelli bianchi che appunto ferma il Rev-9 con un fucile e poi un lanciamissili ma mettetemela in The Walking Dead contro l'orda di Alpha questa donna meravigliosa per quanto sarà con ogni tanto del secondo mi stesse sulle balle ma devo mettere che un personaggio è una bedesse che ho sempre adorato Grace e Dani non sapendo chi è questa giustamente scappano e Sara però poi le ritrova spiega chi è lei e Grace spiega a Sara che nel futuro dove viene lei non c'è Skynet ma c'è Legion che è praticamente Skynet con un altro nome alla fine che vuole eliminare Dani perché appunto si pensa che Dani sarebbe è la madre del futuro leader della resistenza e tu pensi che palle sta cosa dopo un po' di casini vari scontri appunto con questo Rev-9 è sempre attaccato al culo che devono mettere un po' diventa fastidioso infatti io continuo a dire ma che palle ma fatelo fuori sto rompiccomando sto rompipalle arrivano in Texas che è il punto da cui a Sara arrivano dei messaggi in cui ci sono può trovare dei Terminator delle tracce di Terminator e sono tutti firmati per John loro trovano appunto dopo poi una fuga epica dalla prigione di confine casini eseguimenti ricordi insomma esplosioni tutto questo ma quello che ci si aspetta da un Terminator le tre arrivano in Texas e qui troviamo il T-800 che ha ucciso John con le sembianze di uno Schwarzenegger invecchiato e a me già quando l'ho visto io già ero in estasi perché veramente i feels lì sono stati potentissimi questo questo androide si è adattato al mondo umano anche perché una volta Carveli non puoi tornare indietro si è adattato e ha cercato di fare ammenda per quello che ha fatto a John quindi abbiamo anche un Cyborg con si può dire un briciolo di coscienza umana appunto è per questo che mandava i messaggi a Sarah e decidono appunto con delle armi speciali di far fuori il suo benedetto Rev-9 usando danni come esca dopo un casino uno scontro epico con questo aereo fantasmagorico una roba bestiale casini vari le prendono anche sono ridotti abbastanza male il Rev-9 è palesemente in vantaggio Grace convince Danny a prendere il suo reattore nucleare quello che la alimenta per sconfiggere il Rev-9 quindi grazie al sacrificio di Grace e anche del T-800 che qui nel mondo umano si faceva chiamare Carl riescono finalmente a sconfiggere sto cazzo di Rev-9 però la cosa bella è che qui a differenza nel secondo film non hanno cercato di impedire la guerra la guerra ci sarà e infatti il film si conclude con con Sarah Connor e Danny che guardano la Grace quella del passato e la tengono d'occhio per proteggerla perché non vi ho detto che nel futuro di Grace non c'è Danny non è la madre del futuro leader è lei il futuro leader della razza umana quindi qua diciamo hanno voluto scostarsi infatti lei è praticamente il John Connor della situazione e ci sta ci sta io questa cosa l'ho gradita perché un'altra volta una donna che è importante solo per il suo utero non l'avrei sopportato poi questo film devo ammettere che è molto girl power perché le colonne di diamante sono tre donne Linda Hamilton che ancora spacca i culi da bestia l'attrice che fa Grace di cui purtroppo non ho guardato il nome è appunto Danny che è una ragazza poi ispanica che sarà una donna il futuro leader della razza umana è un messaggio femminista magari un po' scontato ma che personalmente mi piace si discosta anche un po' dal classico leader uomo ragazzi quando una donna spacca i culi piace sempre io infatti vi dico che del signore degli anelli io preferivo centomila volte di più Ewin perché Ewin era cazzuta si è fatta un culo così per Aragorn è andata anche a combattere la guerra a Minas Tirith nel ritorno nel ritorno del re era fantastica ma Aragorn se è andata con quella ameba di Arwen che non ha fatto un cazzo quasi un cazzo per tutto il film a parte andarsene e quando torna sta per morire ma vai a cagare cioè io preferivo mille volte Ewin Aragorn doveva stare con Ewin per quanto mi riguarda quindi quando è una femmina a spaccare i culi a me personalmente piace da impazzire quindi io a questo film do un 7 perché per quanto non sia ai livelli dei film di quel genio di Cameron mi ha intrattenuto mi ha regalato nostalgia mi ha anche divertito mi ha coinvolto le scegli d'azione sono state fatte bene Linda Hamilton e Aldous Warzoneger ancora bucano lo schermo con i loro personaggi sebbene ormai il franchising per quanto mi riguarda ormai ha concluso cioè spremere latte da una mucca che non ne ha più secondo me è solo inutile e quindi però devo ammettere che nonostante anche gli attori quelli novizi non sono stati male devo ammettere che l'attrice che ha fatto Grace ha fatto un buon lavoro a livello anche fisico perché davvero è stata brava e anche l'attore che fa il Rev 9 devo ammettere che mi hanno convinto non sarà sarà una palese tentativo di un po' scopiazzare il secondo film ma ci sta perché comunque io voglio pensarlo anche a un omaggio ai film di Cameron perché comunque ci sono tante cose che ricordano quei film quindi io gli do un set se amate la saga guardate il primo e il secondo lasciate dimenticatevi delle macchine ribelli di Salvation e di Genesis e guardatevi questo perché se siete amanti della saga secondo me vi potrà intrattenere vi potrà anche far divertire rendere anche un po' nostalgici se invece non conoscete ancora questa saga e amate appunto questo genere di film con robot esplosioni casini bombardamenti tutto quello insomma basini vari insomma azione ma anche un po' di drammaticità recuperatela perché sono sicura che soddisferà le vostre aspettative bene questo video si conclude qui spero che vi sia piaciuto ho voluto appunto parlarvi di questo film perché appunto Terminator è una saga è una saga perdonatemi cosa stavo per dire sono in aria oggi ragazzi è una saga cinematografica che mi sta molto a cuore non so se ne faranno altri ma non penso proprio almeno anche perché anche questo è stato un pochino un flop quindi non so se investe anche perché Linda Hamilton l'ha detto io vorrei chiudere col franchising a meno che non le offrano un botto di soldi non penso che rivedremo ancora Linda Hamilton nei panni di Sarah Connor però per me va bene anche così francamente mi va bene anche così quindi appunto ho voluto parlare perché è una saga che mi sta molto a cuore e visto che appunto il canale adesso è più ricco si tratta di argomenti differenti ho pensato ma sì ne faccio un video e ne parlo anche perché comunque magari tra i miei iscritti o comunque in generale c'è qualcuno che può interessarsi a questa saga quindi spero che vi sia piaciuto vi ricordo che in descrizione trovate il link del mio Instagram che è il social su cui sono più attiva se avete voglia di venire a dare un'occhiata alle mie foto alle mie stories e di mettermi anche magari un like o di seguirmi che mi fate tanto tanto contenta iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto cliccate sulla campanella per attivare le notifiche e se questo video vi è piaciuto mi datemi un bel like e condividetelo vi mando un bacione enorme e noi ci vediamo al prossimo video alla prossima recensione alla prossima reaction ciao a tutti comunque ragazzi dopo anni Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger spaccano ancora i culi anche più ma ventenni levatevi proprio ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti